Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 28 aprile. Italia ancora sotto la cappa dell'anticiclone nordafricano, il quale però sospinge sulla penisola non aria rovente saariana, bensì aria sì calda ma di origine sub-tropicale atlantica. Tempo bello, isolati rovesci pomeridiani sulle Alpi piemontesi e sulle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo, valori di 20-23 gradi con punte di 24-25 sulle Isole Maggiori. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è molto semplice da usare.